Un tratto generoso. Sulle braccia. Chi è stato? Chi è? Sono io. No, non sei tu. Il colpevole non sarà punito. Si alzi. Mi vittiavano, mi insultavano. E io... Siedi. Si alzino quelli che l'hanno provocato. Voi avete insultato un compagno che non vi provocava. Schermito un... percosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana. Tu sei un'anima nobile. Vi perdono. Un dolce nome in tutta Europa. Ferrero. Un mondo di freschezza. Di genuinità. Il mondo semplice e naturale della famiglia italiana. Monscheri così dolce. Così prezioso. Monscheri Ferrero. Ora, anche in nuove splendide confezioni regalo. Regala Monscheri. Di genuinità.